Noi pensiamo a lavorare noi, cercare di migliorare partita dopo partita, migliorare sempre in qualcosa, ogni giorno in allenamento bisogna fare la corsa su di noi, valutare ora le altre avversarie è troppo presto, un po' per la preparazione, un po' i carichi di lavoro, quindi non è facile, quindi pensiamo a noi, cerchiamo piano piano, giorno dopo giorno di migliorare per farci trovare pronti la prima di campionato. Il punto di forza maggiore è che ci passiamo la palla, quindi passandoci la palla alla fine ci divertiamo e divertendoci difendiamo, quindi ci sacrifichiamo l'uno per l'altro, c'è un'ottima, stiamo cercando di creare un'ottima chimica di squadra, la cosa bella è che ci passiamo la palla, nel torneo abbiamo fatto tantissimi giri aperti grazie a quel passaggio in più, anche stasera abbiamo dimostrato, anche se eravamo un po' più stanchi, però alla fine credo questo sia il pregio maggiore di questa squadra, poi alla fine dei talenti individuali sappiamo tutto quale sono, però senza il lavoro di squadra e di gruppo alla fine non si va da nessuna parte.